L'oratorio, solo gruppo adolescenti, catechismo, squadra di calcio e attività sporadiche durante l'anno non basta più. 26 gennaio 2022. Grazie a voi. Ci sarà la possibilità di fare qualcosa insieme, per noi sarebbe bello. Ci sarà la possibilità, molto volentieri. 23 settembre 2022. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo numero del cantiere. Oggi ci troviamo in un cantiere molto particolare e ringraziamo subito l'ospedalità dell'oratorio di Chiuduno. Scopriamo subito per quale motivo ci troviamo qui. Santo Aiello è uno degli adulti responsabili della Ragnatela dell'oratorio di Chiuduno, un gruppo di adolescenti e adulti che recupera materiale di riciclo per costruire oggetti al servito della comunità. Il gruppo nasce nel 2016 grazie alla rispondibilità di qualche falegname e di volontari carichi di energia. L'idea è proporre agli adolescenti di mettersi in gioco dal punto di vista pratico per condividere lavori, obiettivi ed esperienze. Poche parole ma tanti messaggi trasmessi tra un lavoro e l'altro. Grazie Santo per averci ospitato nel tuo oratorio. Oggi parliamo di una realtà molto particolare che è la Ragnatela. Grazie per averci aperto le porte del vostro oratorio e per raccontarci un po' che cosa è la Ragnatela per voi. Prova a raccontarci un po' che tipo di valore ha questa esperienza secondo te per gli adolescenti di oggi che vivono la Ragnatela. Il valore che ha è l'idea per cui è nato tutto. L'oratorio solo gruppo adolescenti, catechismo, squadra di calcio e attività sporadiche durante l'anno non bastava più, non basta più. Quindi avere un'opportunità diversa che magari è un po' fuori dagli schemi, non è la solita. Avere a che fare con delle persone adulte, lavorarci insieme e fare poi delle cose che sono viste dal resto della comunità, il valore aggiunto è questo. Che cosa deve tenere a mente secondo te un educatore o comunque un giovane adulto che vive questo ambiente con loro? Deve mancare l'aria di superiorità perché quello allontana i ragazzi. Quello che cerchiamo di fare noi è non metterci sul stesso piano perché comunque un po' di distacco ci vuole, però non trattiamo i ragazzi come dei fruitori, ma partecipano alle decisioni, partecipano ai lavori che facciamo, a tutto. Sono parte del gruppo, devono sentirsi parte del gruppo, si sentono parte del gruppo, questa è la ricetta secondo me. Hai detto prima che i ragazzi che vivono la ragnatela sono comunque ragazzi di oratorio. Secondo te qual è il valore aggiunto di provare a sperimentare questa dimensione pratica e che si può portare poi nell'oratorio? Per me è quello che ti ho appena detto, i ragazzi che vanno a fare il turno al bar o alla festa dell'oratorio, se vengono trattati come delle marionette che devono essere pilotate, fai questo, fai quello, lo fanno perché magari poi in gruppo si fa tutto, ma a metà non danno proprio tutto che lo potrebbero dare. Se invece il rapporto è proprio quasi alla pari, vediamo le cose insieme, ci si confronta sia per i problemi che per le cose belle, è una cosa positiva e quindi questo per me che noi sperimentiamo qua, poi ho visto che riportandolo anche fuori è tutto. Secondo te che cosa si porta a casa un adolescente che prova a vivere l'esperienza della ragnatela e se riesce a riassumerlo con tre parole chiave? Amicizia, che si crea anche con noi, che magari avremmo avuto a che fare con loro se per altri motivi invece qua si crea un bel rapporto. Responsabilità perché facendo le cose in prima persona sono coinvolti in quello che fanno e quindi responsabili del lavoro che stanno facendo e poi passione perché quella serve, se no non vieni qua la sera a martellare o a abitare. Prima che mentre chiacchievamo dicevi che la ragnatela è nata nel 2016, c'è stato un ragazzo, un adolescente che ha vissuto la ragnatela e vi ha riportato la sua esperienza, soprattutto quello che magari gli è rimasto come insegnamento. Non in modo esplicito, mi viene in mente quei 3-4 ragazzi che erano un po' più affezionati, non sono venuti a dirmi guarda bello perché lì ho fatto questo, questo e quest'altro. Però si vede che quando ti incontri per strada, anche dopo il tempo che non ti vedi, c'è quell'affetto che c'era, che è rimasto, quello per me è un bel valore anche quello. Grazie mille per averci raccontato il mondo che vivi della ragnatela, speriamo che sempre più ragazzi si possano appassionare a questo mondo e provare a mettere un po' le mani in pasta, anche in una dimensione diversa da quella dell'oratorio, però pur sempre sotto quel tetto lì. Ti ringrazio molto anche per averci ospitato in questo posto meraviglioso. Grazie a voi. O non dimenticatevi di iscrivervi alla newsletter per non perdere i prossimi contenuti. Ciao! O non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale.